Allora, molti argomenti sul tavolo. Francesco, abbiamo sentito idee di investimento un po' a 360 gradi. Qual è l'offerta di BNP in questa ottica e so che vuoi parlarci dei nuovi bonus cap cutati recentemente sul mercato italiano. Sì, grazie Marco. L'offerta di BNP Paribas nel segmento certificato si è arricchita nelle ultime due o tre settimane con i primissimi recovery, i 80 di cui abbiamo parlato settimana scorsa e di seguito nella scorsa settimana con una missione di bonus cap che sono i prodotti più famosi tra i certificati quotati su Sedex o su Borsaliana. Ora parleremo di quelli quotati su singoli titoli e poi ci sposteremo nella seconda parte su quelli legati a basket di titoli. Come vedete l'emissione è abbastanza limitata come sottostanti, però va a coprire effettivamente quelle che erano le esigenze che ci avevano mostrato i nostri investitori. Abbiamo messo su Unicredit, Intea San Paolo, FCA, Deutsche Bank, E.ON e Sogen. Quindi coprendo innanzitutto i tre titoli principali del Fuzzimib con diversi livelli di barriera, perché come vedete qui abbiamo effettuato un'emissione, due emissioni con la stessa scadenza dicembre 2016 ma con barriere differenti. Come vedete anche abbiamo un'emissione con barriera 80%, quindi abbastanza elevata, è un'emissione un po' più tranquilla come distanza a barriera al 60%, sia su Unicredit che su Intesa che su FCA. E poi appunto un'emissione a più lunga scadenza a dicembre 2017, sempre su questi tre sottostanti italiani, dando appunto un orizzonte temporale differente di più lungo periodo all'emissione. La cosa interessante qual è? Al nostro modo di vedere, innanzitutto il fatto che lo strike di questi strumenti è avvenuto il 3 marzo, quindi innanzitutto hanno già iniziato a scambiare, hanno anche effettuato degli scambi e comunque in questo momento sono praticamente tutti al di sopra del 100%, quindi al di sopra dei 100 euro che è il prezzo di emissione. 3 marzo quindi quando il rimbalzo dei bancari era già partito. Esattamente. Il vantaggio è che comunque siamo a quotazioni di borsa comunque abbastanza basse ancora, perché con le discese che ci sono state tra gennaio e febbraio comunque gli strike sono molto bassi, quindi anche di conseguenza le barriere, in specie quelle al 60%, sono comunque molto profonde, vedendo anche i valori minimi di periodo che hanno raggiunto i vari titoli. poi abbiamo deciso di quotare anche su Deutsche Bank, E.ON e Sogene General, perché ovviamente questi sottostanti, Deutsche Bank e Sogene sono dei titoli bancari europei che hanno risentito così come i nostri titoli italiani delle tensioni che ci sono state questo inizio d'anno, quindi anche in questo caso gli strike li ripetavamo molto interessanti, le barriere sono comunque profonde perché le trovate al 70% e rendimenti interessanti perché come vedete qui abbiamo intorno al 116-115% di bonus, ed E.ON perché è un titolo che ha sofferto molto negli ultimi anni e che agli attuali livelli dà comunque un bonus molto alto che è pari al 120% in 9 mesi circa. quindi ricapitando il vantaggio di questa emissione, ricordo, magari faccio un passo indietro e ricordo qual è il payoff, il profilo a scadenza di un bonus, questi strumenti prevedono una condizione di capitale condizionatamente protetto, perché condizionatamente? Perché la condizione, perché sia rimborsato il capitale e il bonus che viene promesso e che non venga toccata la barriera? Ricordo che la barriera è votata in continuo, quindi dall'emissione alla scadenza, purché io abbia il mio capitale indietro è necessario che non venga mai toccata la barriera, quindi mai durante la vita del certificato, le barriere sono al di sotto, quindi a valori inferiori rispetto allo strike, che è stato fissato in sede di emissione come diciamo il 3 marzo e se appunto non viene inviato la barriera ho un rendimento che trovo nella brochure prodotto indicato come bonus cap, quindi nel primo caso prendo il titolo unicredit che avete qui con strike, ingranisco un poco perché magari è un po' piccolo, 3,35, il bonus è pari a 111, la barriera 2,011, cosa vuol dire? Che se il titolo non tocca 2 fino alla scadenza che è il 16 dicembre, io otterrò 111 euro per certificato perché sono tutti emessi su base 100. Come trovare questi titoli e altri titoli magari che fanno parte comunque della gamma dei nostri prodotti? È molto semplice, basta andare sul nostro sito che ricordo è www.prodotteliborsa.com, cercare i bonus che sono i certificati che vi ho descritto in precedenza e scegliere come sottostante, in questo momento troverete come primi risultati nella ricerca perché sono quelli di più recente emissione i titoli di cui vi ho parlato, quindi Unicredit, Intesa, Sogen, Eon, Deutsche Bank e così via, però basta scegliere magari un sottostante FCA e si trovano tutti gli strumenti certificati bonus cap con sottostante FCA, basta individuare qual è la variabile che mi interessa, quindi il prezzo, il rendimento, la scadenza e così via e io posso decidere qual è il certificato che più fa al caso mio. Ricordo come ultima cosa che il rendimento è quello scritto ovviamente sul sito, ovviamente un rendimento lordo, il vantaggio dei certificati, ripeto sempre, magari è ancora più da segnalare in questi momenti in cui molti investitori avranno delle perdite di portafoglio, i rendimenti derivanti dai certificati sono redditi diversi, quindi effettivamente sono tassati comunque con una liquida del 27%, ma io posso utilizzare questi per portare in detrazione delle mie minusvalenze entro il quarto anno dal loro realizzo, quindi effettivamente se ho un cosiddetto zainetto fiscale in portafoglio e non so effettivamente come spenderlo, magari mi stanno in scadenza, magari è molto alto e voglio decidere di abbatterlo pian piano, posso entrare, comunque investire in questi strumenti che hanno un meccanismo di protezione almeno parziale del capitale, perché hanno comunque una barriera, quindi non sono dei veri investimenti azionari e comunque danno dei rendimenti che possono essere più o meno interessanti a seconda della risultata ovviamente del titolo. Quindi sono delle valide alternative all'investimento diretto nel titolo azionario sottostante. Bene, direi che...